Ovviamente non possiamo non ricordare e non rendere un doveroso omaggio, l'abbiamo fatto prima anche nel minuto di silenzio, ai tre vigili del fuoco che sono rimasti uccisi nell'Alessandrino. Chiamiamoli per nome, ricordiamo i loro nomi, Antonio Candido, Marco Triches, Matteo Castaldo. Mariti, padri amorevoli che hanno perso la vita in questo incidente, forse un attentato, la magistratura indagherà e confidiamo che quanto prima se ci sono dei colpevoli avranno un nome e un cognome.